Siamo amici! Tra un poco è carne e va! Non abbiamo mai riparato le chiacchiere? Li facciamo? Vi faccio vedere io una ricetta di sera buonissima! Gilev, panna, farina, un pizzico di sale, uova e grappa! Rompiamo le uova! Eccola! Allora è ancora pronto abbattanza! Quanto diventa così? È pronta! Mettiamo un po' di coperta! La facciamo riposare un po'! A questo punto prendiamo questo e la tendiamo! Quando diventa così la possiamo tagliare con la retellina! Uno, due... E adesso mamma frige! Ci mettiamo nel zucchero a velo! Buonissima!